non solo quello dei radiatori, ma anche quello dei gas fiscali, che escono a 700-800 lei di temperatura, può servire a scaldare l'edificio. Per cui con lo stesso gas che oggi si consuma per riscaldare l'edificio, si manda avanti il contenitore che produce energia elettrica per 10 edifici e il calore che si recupera serve da scaldare per l'edificio. Si rattoppia il rendimento della luna. Gli automobili sono un settore salvo, consumano l'energia, i cogeneratori sul mercato vergine e di mezza nei consumi di energia. La Volkswagen ha calcolato che con 100.000 macchine, a posto delle caldaie a 5 anni, si fa una produzione di energia elettrica senza consumare niente in più, pari a due centrali nucleari. Su queste cose è nulla, altro che due centrali nucleari che recuperano il nostro governo. La cosa sorprendente è che questa macchina è stata inventata dal 100% di Fiat nel 1970. Quindi, potete essere dei schemi nel 2009 a fare queste cose, sono un po' tardoni, sono un po' ragazzoni, un po' studi dolore. Non so come dire, ci hanno messo 37 anni a capirli. Noi non l'abbiamo ancora capito. Loro hanno preso una cosa che è stata fatta a Torino. Noi siamo più vicini a Torino che noi non l'abbiamo ancora capito. Queste sono le situazioni. Allora, se di voi questa è una tecnologia che mi cresce, una tecnologia che fa diminuire il consumo di risorse a pari dalle sicurezioni. Questa è la strada. C'è l'unica maniera per uscire dalla crisi che stiamo affrontando, sia nei suoi aspetti occupazionali, sia nei suoi aspetti emergenti, sono le tecnologie dei cresciti. Questo è tutto. Adesso le altre cose le faccio un po' più veloci, però qui è importante che ci sono sempre anche di affrontare la politica attuale. Il secondo aspetto, come ho detto, sono gli stili di vita. Gli stili di vita ho scoperto una serie di cose che governavo i rapporti delle persone fino a qualche decennio fa, diciamo, fino agli anni 50. Quali sono queste cose? La prima è la capacità di auto-produzione delle cose. Ogni volta che si auto-produzione, prima ancora c'è la sobrietà, diciamo. La sobrietà è un elemento di fondo. In una società fondata sulla crescita del PIL, se aumenta la produzione, deve aumentare la domanda. Se aumenta la domanda, le persone devono sostituire sempre più in fretta le cose che hanno. La persona soffre e non va fatturati con gente. Quindi è non funzionale, è un mecanismo della crescita. Per cui la virtù della sobrietà è stata trasformata nell'indizio della taccanieria, nella testa della gente. Con sobrietà il taccanio è uno spiroccio. E quindi per favore di non avere atteggiamenti dissimativi, perché il lavoro che passa è questo. Accanto alla sobrietà c'è la cosa dell'autoproduzione, che crea un'importanza infattamentale. Ogni volta che si autoproduce qualcosa, si riducono moltissimi i fatti ambientali. Ad esempio che io faccio un'idea un po' per favore è quello di yogurt. Lo yogurt d'autoproduce, che poi è una parola grossa, perché lo yogurt d'autoproduce, che poi è una parola grossa, perché lo yogurt d'autoproduce con i fermenti lattici, non viene proprio niente. Se uno lo compra, prima di riparci al suo prodotto da 1.500 a 8.000 km. Io direi che ho scritto 1.500. Il W per Tardistico 8.000 km. Quindi consuma frutti fossili, fa crescere il P, perché fa crescere lo spreco, eccetera. Se uno si fa la ricerca tutta siena farà anche un centimetro. Reduce il P, che riduce lo spreco dei frutti fossili. Se uno lo compra, fa per ogni produzione tre tipi di riferi. Se uno lo compra, magari prende qualche cosa, ma non c'è più neanche dei fermenti lattici di lì, che è stato prodotto e chissà quanto tempo prima, eccetera. Se uno se lo fa, la sera lo mangia la mattina, è ricchissimo i fermenti lattici di lì, quindi dal punto di vista costituzionale superiore. Quarto, se uno lo compra, lo paga 4 euro al litro. Se uno lo so fa con il latte, lo paga 1 euro al 20 al litro. Se il latte è alla spina, quindi non faccio neanche il riferito del contenitore, 1 euro al litro. Quattro volte di meno. Tanto questo è un discorso della povertà e della ricchezza. Io posso lavorare di meno, mi faccio delle cose e le pago molto meno di quelle che compro. Oggi non sa fare più niente nessuno. non sa fare più niente nessuno. E' stata fatta la scuola. Io stiamo nell'università. Il compito della scuola è quello di fare perché riuscissero delle persone che non sanno fare niente. Perché se uno sapere qualche cosa, uno compra tutto. Se uno compra tutto e c'è più di meno, di uno che non sa fare niente, deve comprare tutto. Abbiamo perso completamente. Nel nostro movimento abbiamo diventato una struttura che si chiama Università di Saperfare, in cui si cerca di rinsegnare le persone a fare delle cose. Ora, chi è il docente ideale dell'Università di Saperfare? Le donne, che erano quelli che erano tutti i suoi figli, di origine contadina e soprattutto di origine criminale. Perché noi che sono meno capaci da donne del 71, ma da più tempo la mercificazione, eccetera, ha tolto questo tipo di conoscenze. Mentre ci sono quelle donne nel mezzogiorno, che sono delle cose straordinarie. Sanno fare tutto. E la cosa più sorprendente, quando abbiamo fatto la Università di Saperfare, abbiamo avuto un numero di iscritti molto superiore alle nostre capacità di fare i corsi. Molto superiore, abbiamo dovuto chiudere. Ma sapete qual'è la fascia di età delle persone che sono iscritte? Vent'anni. Questo perché? Perché sessant'anni nella stazione, cioè noi abbiamo gli ultimi sessant'anni di follia, no? Tanto petrolio ma poco prezzo. Abbiamo dimenticato l'otto. Ma sessant'anni nella storia dell'umanità sono un battio di ciglia. Cioè non da millenni abbiamo vissuto in maniera di differenza. E quindi quello che non sapere fare è una mutilazione, che le persone lo sentono il desiderio di ricoprire queste competenze, queste capacità. Terzo elemento degli stili di vita, che ho detto, sobrietà, autoproduzione e gli scambi non mercantili. Abbiamo dimenticato che noi possiamo scambiarci del tempo, delle competenze professionali, senza denaro. Alcuni studiosi francesi, come la scuola del Moss, che il primo di questi, Marcel Moss, era in un altro ruolo, hanno visto che in tutti i luoghi del mondo, in tutte le luoghi storiche, i gruppi umani si sono scambiati del tempo, non delle cose, sulla base dei tre principi, che erano scritti da nessuna parte, ma che si trovavano identici dappertutto. La prima regola era l'obbligo di donare. La seconda regola è l'obbligo di ricevere. La terza regola è l'obbligo di restituire più di quello che possiamo. Per cui se io gli dono il mio tempo, tu lo ricevi, mi restituisci più di quello che ho dato e alla volta lo restituisci più di quello che ho dato. Quindi gli scambi non mercantili creano legami sociali. Gli scambi mercantili distruggono legami sociali. Gli scambi mercantili fanno crescere il pilo. Gli scambi non mercantili non fanno crescere il pilo. E, diciamo, ai ministri delle finanze, a noi gli piace tanto, perché sugli scambi mercantili ci mettono l'IVA, ma su un dono non posso mettere lì. Va bene? Questa è la portata culturale molto grande. Si potrebbe dire che ho usato la parola comunità. La parola comunità è composta da due parole che viene. La preposizione cum, che indica l'unione, e la parola mus, che significa dono. Le comunità sono gruppi umani in cui i legami tra le persone sono basati anche sul dono e sulla reciprocità, sul dono e sul controdono. Pensate nelle nostre campagne fino a anni 50 e 60. Pensate adesso, invece, che tutte stanno modificate, ma che non c'è più neanche dei gruppi di persone che vogliono donarsi del tempo, rapidamente, ma ci chiamano banche, che in massimo è una conciliazione. C'è le banche di tempo, c'è una contraddizione interna. Non abbiamo più neanche le parole per rispetto ai concetti. Sono state sradicate nella nostra testa. Il terzo filone, come ho detto, tecnologie, stile di vita, il terzo filone è la politica. E qui diventano dolori, perché tutti i partiti politici e tutte le corrette di pensiero nell'Occidente sono per la crescita. destra e sinistra sono due varianti dell'ideologia della crescita. Si scontrano sulla distribuzione, sui criteri di distribuzione, del reddito monetario prodotto, ma non mettono nessuna discussione che debba crescere in questo reddito. La destra dice che nelle parti deve fare il mercato, la sinistra dice che nelle parti deve fare il mercato. I più forti prendono le fette più grandi, i più debbili, i più debbili, i più debbili e i più debbili, e i più debbili devono fare le parti più giuste. Ma nessuno mette in discussione di noi che deve crescere. Lo dicono tutte le gente in giornale, il Papa, il Papa Teologo. L'enciclica ultima, Caritas in Veritate, dal punto 14, ha questa frase L'Uomo, l'essere umano, è costituzionalmente fatto per il di più. Così è costituzionalmente fatto per il di più. Io che non sono teologo avrei scritto che l'essere umano è costituzionalmente fatto per il meglio, non per il di più. E molte volte il meglio corrisponde con il di meno, non con il di più. Abbiamo fatto l'esempio delle case che spregano l'energia, se le ristrutture che consumano di meno, è il meglio che corrisponde al meno. Cioè questo elemento del più, della quantità, della crescita, ha privato dal meno della nostra mente, che anche da un'autorità spirituale uno si aspetterebbe delle cose diverse, torna la spia di noi.